In alto a giusto. Ma con le creste, è pericoloso però. No vabbè no, è un po' dolce. Non c'è messo a spiegare. Sì, l'auto ci sta. Meglio non dire e fare cose. Rivido! Non penso che si sono così. Non penso che si sono così. Secondo me è sempre frontale. Però la forza è l'abitudine. Non sai che scopriamo qui? Eh. Non è un crank è quello quello. Allora. 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 Allora.